Buongiorno e bentornati a tutti, allora volevo dire una cosa, non vuoi però ad una persona che ho incontrato a Gaeta che si chiama Leonardo ed è molto, vive a Roma, ha dieci anni e diciamo questo ragazzo è molto bello, è pure educato, molto bello che io se gli direi, lui sa rispondere tutte le cose che io ho dei problemi, che io l'altra volta ho parlato, ho parlato del fatto della mia amica Michela, lui parlò pure lui diciamo di questo problema degli amici falsi degli amici severi, quindi io direi molto che questo Leonardo è un ragazzo molto simpatico che rispetta le conseguenze della gente, ti aiuta ai problemi della gente, poi ti aiuta un sacco di problemi. Allora Leonardo ti presento che io sono Melania Mariniello, quella che ho incontrato a Gaeta all'Ido Istilio, non mi ricordo esattamente perché, e mi ricordo che se ti do un qualche suggerimento conosco a tua sorella Lulu di 4 anni come mia cugina chiara, la figlia della signora di zia Laura, di mia zia, quella che è amica a Lulu quando c'erano 2 anni, che conosce a tua madre, che fa, che lavora, non so, che lavora in banca, conosco, e che tieni pure un fratello, e che tieni pure un amico, tu fai sport in spiaggia con un campo che sta vicino alla spiaggia, poi che posso dire? Comunque ti vorrei dirti che mi piace molto come persona, a me non me ne frega dell'età che teniamo, perché tanto a me non me ne frega proprio dell'età che teniamo, se riconosci, non ti rendere il trucco, se riconosci a me senza occhiali, che tengo gli occhiali, e se, non è che, io non è che, diciamo, non è che sono un po' cattivella, con la gente non sono cattiva, con la gente intorno a me perché, non è che, vabbè, che te ne frega di questo, poi, a me, tu a me mi piaci molto, a me non è che mi piaci per quello che non, per quello che sei, ma mi piaci proprio il carattere che tieni, pure i familiari che tieni, diciamo, tu vivi a Roma, e a me non è che mi piace Roma, non è che mi vorrei mettermi con un ragazzo di Roma, che mi piaci come, come carattere che tieni, e carattere che tiene i vostri, che i vostri, tua madre, tuo padre, e tua sorella, e tuo fratello, e lo lo oppure, a me mi piaci come sei, ma non è che, non è che, dire, quello è un ragazzo di Roma, non voglio mettermi con un ragazzo di Roma, però quel tu mi piaci come sei, allora, voglio aspettare la tua domanda, se, vedilo sul computer di tua madre, perché tu non è che non stai, che non hai il tuo computer, non hai neanche un cellulare, e quindi potrei dirti che, se, se dispongi, va bene, perché, così mi tagli un po' quest'ansia di di dottso, per dirlo a tutti, allora ci vediamo alla prossima puntata, e Leonardo ricordati dirmi la risposta, ok? Ciao!